Creare un contatto diretto tra le nuove generazioni e la grande famiglia delle Forze Armate. Questo è l'obiettivo principale di Caserme Porte Aperte che si rinnoverà in occasione del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate anche alla caserma Raffaele Libroia di Nocera Inferiore, sede del battaglione Trasmissioni Vulture dell'esercito italiano. Scolaresche, semplici cittadini oltre ai rappresentanti delle autorità locali saranno presenti direttamente nella piazza d'armi della caserma, dove i militari terranno poi una serie di dimostrazioni pratiche. Previsti interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile che mostreranno ai giovani le attività che vengono svolte quotidianamente. Per i ragazzi la possibilità di toccare con mano quello che è il lavoro dei soldati e degli altri rappresentanti delle Forze Armate. Allora quando le caserme si aprono al pubblico, alle istituzioni locali, agli istituti di formazione, per essere un unico connubio nell'attuale società e tramandare i valori del passato nella società di oggi che presenta molti problemi. Quali saranno le esercitazioni che mostrerete ai giovani e ai ragazzi in particolare nella giornata di lunedì? Dopo la cerimonia solenne dell'alza bandiera ci sarà la dimostrazione di un atto tattico elementare da parte del personale militare della caserma, oltre a una mostra statica delle forze armate, mezzi e materiali delle forze armate e dei corpi dello Stato. Successivamente una dimostrazione da parte dei vigili del fuoco, infine una rappresentazione da parte delle unità cinofile dell'esercito e per concludere sia uno spettacolo da parte di un'associazione Ollus di Nocello Inferiore e una sorta di Vindener da parte della scuola di Maddaloni di commissariato.